La squadra è piaciuta anche il primo tempo. Abbiamo difeso con ordine, con le giuste distanze, certo con qualche errore, ma a netto delle differenze delle due squadre, credo che la squadra abbia meritato di stare sempre partita. Abbiamo subito due gol fortunosi, forse il secondo anche in maniera anomala per il calcio, quindi non meritavamo di stare sotto. Sì, nel primo tempo siamo arrivati molto spesso in area, mi ha sbagliato qualche scelta e potevamo fare gol già nel primo tempo con le occasioni create, vicino a occasioni create. Quindi secondo me il secondo tempo stava andando sulla stessa linea, poi ha fatto un gol su punizione di Vargas, ha cambiato l'inerzia, la mentalità della partita e la psicologia della partita. Ci abbiamo creduto fino alla fine e credo che questo gol finale, insomma, in una mischia sia il frutto del lavoro che la squadra ha fatto nei 100 minuti e credo che meritasse il pareggio. A me in queste due settimane i ragazzi mi hanno fatto vedere grande crescita, certo devo conoscere bene i giocatori, loro devono conoscere me, i miei metodi, ma sono molto contento dell'evoluzione degli ultimi dieci giorni, l'ultima settimana, perché la prima è stata traumatica e poi i ragazzi sono migliorati molto.